Deve essere rimasto qualcosa qui in giro. Niente male. Sirkelknopp, tilbake. Vedi qualcosa che ti piace? No. Cerchiamo ancora. L2-knapp, sol, venstre spak, roter, sirkelknopp, sett tilbake. È perfetto. Ma è l'attorto, sai? Sei una bella persona. Non mi conosci. Quanto basta? Abby! La smetti di rubare la mia roba? Ti prego. Scusa, non sapevo che tutto nell'acquario fosse tuo. Sì, beh. Il mio acquario, le mie cose. Scherzavo. Serviti pure. Tu no. Hai visto Lev? Sì, là nel corridoio. Posso parlarti? Ti raggiungo. Non ha capito che scherzavo. Non ci so fare. Già. Tu vai. No, non posso. Perché? Lo sai perché. Senti, troveremo un modo. È troppo tardi. No, no, non è vero. Lo so. Lo so che è un vero casino. Lo so. Ma possiamo essere felici. Abby. Nessuno ce lo impedisce. Sentito. Lev! Torna indietro! Lev! Che sta facendo? È andato a cercarla. Cercare chi? Sua madre. Lei lo ucciderà, Abby. La barca è pronta. Non ancora. Quanto tempo ti serve? Qualche ora. Cazzo. Lo raggiungeremo. Con una delle barche al porto. Ehi, l'ho appena operata! Sto bene. È l'unico mutuo. Vengo anch'io. Owen! Stanno andando sull'isola. Appunto. Non posso farla andare da sola. Sì, invece. Posso aiutare? Sì. Restando qui, aggiustando la barca. Hai le tue priorità. Yara, andiamo. Ecco il porto. Come stai? Tutto bene. Ok. È una base di... La usiamo con il molo per le barche. Ok. Non ce la farò mai. Vieni. Ti aiuto io. Faccio io. Andiamo. Attenzione. Non pensi di arrivare al tuo bingaggio. Lungo la costa ci sono punti ciechi per l'attrappo. Poi seguiremo le strade secondarie. Sono sicura? È la via meno rischiosa. C'è qualche speranza che le fanno di idea. Nessuno è troppo finito. Ma ha capito quanto lo aspetta? Credo di sì. Ma un debole per la donna? Direi. È la sua mamma. Sì, beh. Lei non la vede così. Come arriviamo al porto da qui? Facciamo... Il giro. Da questa parte. È la sua mamma. Ehi, proviamo qui. Ehi, proviamo qui. Dai, entri. Vieni, passiamo da qui. Forza. Resta sull'anno. Cerco una barca e passo a prenderti. No, posso aiutarti? No, no, no. Faccio io. Ok. 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 Stato! Eh, ma che cazzo? Manny! Sei da sola? Sì. Merda. Quel cecchino è un professionista. Che ci fai qui fuori? Le barche. Stanotte l'obiettivo era l'isola. Poi è arrivato questo pendente. Ho mandato a chiedere aiuto. I soccorsi stanno arrivando. In teoria. Sì. Mi serve una barca. Adesso. Perché? Poi ti spiego. Beh, allora aiutami a far fuori sto tizio. D'accordo. Non ci scappa. Vado avanti! 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 Sei bravo! Come? Forse dovremmo seguirlo invece di andare sul viso. Assurdo sia ancora questo. Forse sta succedendo ora. Merda. che cazzo sta facendo? Vado avanti! 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 Non, 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 non! Non, 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 non Grazie a tutti.